professioniste che sono mamme e mamme alla pari lavorano insieme l'unione di una storia di vita da mamma ed il punto di vista di un professionista è true story mamma in questo video vi vogliamo parlare di diabete gestazionale che cos'è e come controllarlo nel dettaglio vi raccontiamo la definizione di diabete gestazionale da un punto di vista scientifico e medico quali sono le complicanze per donna feto e bambino come si può controllare e cosa mangiare in gravidanza quale deve essere la dieta della donna affetta da diabete gestazionale non basta privarsi occorre scegliere i giusti alimenti per assicurare il giusto fabbisogno la donna ed al feto la linea del tempo che interessa questo articolo ovviamente la gravidanza infatti tutte le donne che si trovano in gravidanza ad un certo punto potranno fare il test quindi tramite un prelievo del sangue per vedere se sono affette da diabete gestazionale è una scelta non è un test obbligatorio dipende da voi e da cosa vi consiglia il team che vi segue durante la gravidanza e quindi vi diamo alcuni suggerimenti per prevenire di avere questa patologia ovviamente la categoria dell'argomento è l'alimentazione della donna trovate questo articolo sul blog www.trustorimam.com potete andare nella sezione blog per la mamma troverete una barra orizzontale di ricerca all'interno di questa potete inserire le parole chiavi diabete gestazionale oppure alimentazione vi consiglio di inserire piuttosto diabete gestazionale che alimentazione perché all'interno della categoria alimentazione trovate anche moltissime ricette e quindi rischiate di perdervi all'interno del blog quali sono i professionisti che hanno scritto e si sono occupati di redigere questo articolo partiamo con giorgia viano che la dietista del team trustorimam lavora a torino giorgia viano è l'autrice principale dell'articolo alla fine l'articolo è stato rivisto da tutti i professionisti del team e in particolare commentato da paola sistro personal trainer del team martina luparia pediatra sempre del team di trustorimam poi abbiamo martina pellegrino la ginecologa e infine avremo la testimonianza della mamma to mamma quindi l'esperienza della mamma in relazione a questo tema vi racconterò brevissimamente la mia esperienza non essendo stata affetta da questa patologia ho raccolto un'esperienza di una mamma che invece ha avuto il diabete gestazionale e lo ha dovuto curare tramite insulina e quindi vi racconterò le sue emozioni e anche la sua esperienza da un punto di vista più pratico alla fine del video se avrete domande specifiche relative a questo tema potrete contattare i professionisti che si sono occupati del contenuto tramite il form di contatto nella pagina della professionista nel sito quindi andate di nuovo sul sito www.trustorimam.com nella sezione professionista troverete l'elenco di tutti i professionisti tra cui quelli che vi ho citato e che hanno scritto l'articolo se andate nella loro pagina potete fare direttamente una richiesta di inviare un'email una frase un contenuto una domanda un dubbio eccetera la professionista vi risponderà direttamente tramite email a voi con una relazione one to one allora il contenuto in particolare come abbiamo anche già detto all'inizio vi racconta che cos'è da un punto di vista scientifico medico e scientifico e medico il diabete gestazionale in seguito vi raccontiamo quali sono le complicazioni da un punto di vista della donna del feto quindi del piccolo durante la gravidanza ma anche del bambino quindi cosa può subire il bambino appena appena nato se la mamma ha avuto il diabete gestazionale infine giorgia la detista ci consiglia come controllare questa patologia e che cosa mangiare durante la gravidanza è importante il focus sulla scelta dell'alimento piuttosto che sulla privazione iniziamo che cos'è il diabete gestazionale si intende per diabete mellito gestazionale oppure gdm un'intolleranza al glucosio di entità variabile che inizia o viene diagnosticata per la prima volta in gravidanza quindi prima della gravidanza noi non sappiamo se potremmo avere questa patologia o meno si risolve in genere non molto tempo dopo il parto in alcuni casi tuttavia la malattia può essere antecedente alla gestazione ma viene scoperta soltanto a seguito di esami di routine tipici della gravidanza in questo caso difficilmente si risolverà dopo il parto perché ovviamente era già precedente prima il gdm è la più frequente complicanza della gravidanza si presenta in una percentuale che va dal 2 al 14 per cento a seconda degli studi quali sono le complicanze per donna feto e neonato il gdm se non riconosciuto e trattato può associarsi ad un elevato rischio di malattia della madre del feto e del neonato se il diabete gestazionale non viene controllato c'è il rischio di un'amentata frequenza di complicazioni della gravidanza e del parto come preeclampsia, distocia di spalla e può provocare una crescita superiore normale nel feto detta macrosomia fetale inoltre predispone il bimbo a sviluppare diabete, sovrappeso ed obesità quindi abbiamo la complicazione in gravidanza perché c'è il rischio di preeclampsia e distocia di spalla poi per il feto di una crescita superiore al normale dello stesso feto e per il bambino c'è il rischio di sviluppare post nascita diabete, sovrappeso oppure obesità. La diagnosi di diabete gestazionale è associata a un potenziale incremento negli interventi di monitoraggio assistenziali in gravidanza durante il parto. Le donne con diabete gestazionale hanno un rischio aumentato di sviluppare un diabete tipo 2 in particolare nei primi cinque anni dopo il parto quindi qui un altro rischio per la donna a valle del diabete gestazionale quindi del diabete in gravidanza potrebbe presentarsi anche negli anni successivi al parto un rischio di diabete. Come si controlla? Solitamente nella maggior parte dei casi il diabete gestazionale viene controllato grazie ad alcuni importanti accorgimenti dietetici e da una particolare attenzione all'attività fisica e qui poi entrerà infatti il commento della personal trainer. Se dieta e attività fisica non sono sufficienti per controllare il diabete gestazionale è necessario assumere insulina. Questa condizione si verifica in una percentuale compresa tra il 10 e il 20 per cento delle donne affette dal diabete gestazionale quindi non delle donne in gravidanza in generale. L'assistenza alla donna con il diabete gestazionale deve essere gestita da un team multidisciplinare ginecologo, diabetologo, ostetrica, infermiere, dietista, pediatra, neonatologo, medico di medicina generale, psicologo o psicoterapeuta che opera con un approccio integrato e coordinato poiché in un contesto di collaborazione è possibile migliorare la qualità delle cure. Quindi il succo è che se vogliamo controllarlo prima quindi di sapere di averlo o meno possiamo fare attenzione all'alimentazione e comunque questo rientra nei principi base di benessere in una donna o un individuo in generale e praticare attività fisica adeguata. Quindi sono diciamo i concetti base appunto di salute e benessere. Che cosa ci consiglia Giorgia di mangiare durante la gravidanza se siamo affette a diabete gestazionale? Innanzitutto è doveroso sottolineare che l'intervento dietetico dovrà essere personalizzato in base alle esigenze nutrizionali, al BMI pregravidico e alle preferenze della donna. Quindi ci consiglia comunque di rivolgersi a un dietista o comunque a uno specialista nel settore per avere una dieta personalizzata. Per prima cosa la dieta deve prevedere un apporto calorico adeguato alle esigenze nutrizionali della futura mamma ma anche studiato per controllare l'aumento di peso durante la gestazione. Quindi qui c'è un po' il concetto di privazione versus scelta degli alimenti. Non basta privarsi ma dobbiamo sapere cosa scegliere per mangiare. Seppure sia presente un'alterazione dei livelli glicemici non è pensabile eliminare totalmente intere categorie di cibo perché altrimenti la dieta sarebbe fortemente sbilanciata. Ecco qua primo concetto di privazione sbagliato. Anche in caso di obesità grave l'utilizzo di diete drasticamente ipocaloriche è controindicato. Non bisogna quindi ridurre l'apporto calorico a valori inferiori a 1500 kcal per giorno. Sarà fondamentale seguire una dieta appropriata e sottolineo appropriata per la gravidanza che rispetti i fabbisogni di macro e micronutrienti come calcio ferro acido folico. Normalmente l'acido folico all'inizio della gravidanza ce lo danno anche come integratore a sé quindi spesso in realtà si prende anche prima di essere incinta quando sappiamo che vogliamo appunto che c'è che stiamo cercando una gravidanza. Dieta non significa restrizione ma regime alimentare corretto sano ed equilibrato. Avere una glicemia mediamente più alta del normale non significa abolire tutti i carboidrati ma sceglierli nelle giuste proporzioni e della giusta qualità. Occorre infatti ridurre al minimo il consumo di zuccheri semplici dando invece preferenza ai carboidrati complessi. Altri consigli importanti sono i seguenti quindi incremento di consumo di fibra, verdure di stagione, cereali, farine e prodotti da forno integrali, poi evitare periodi di digiuno prolungato non bisogna mai saltare i passi e bisogna anche alternare per evitare eccessi di cibo in preda a voglie o fame. Quindi ogni tanto facciamo uno spuntino. Consumare pasti completi, terzo consiglio pratico, cosa vuol dire pasto completo? Un pasto completo ha una fonte di carboidrati, una fonte di proteina e una fonte di verdura, sia a pranzo che a cena, perché la presenza di proteine e grassi buoni insieme ai carboidrati riduce l'indice glicemico del pasto. Quarto consiglio, suddividere adeguatamente la quota totale di carboidrati complessi nei tre passi principali. Effettuare due spuntini, uno a metà mattina e uno a metà pomeriggio, per gestire meglio la fame e le energie durante il giorno. Ridurre il consumo di grassi, in particolare grassi saturi, burro, panna, creme, dolci, salse, salumi, insaccati, carni grassi e prodotti confezionati. Prediligere cotture semplici, leggere, digeribili e modalità di cottura che non prevedano eccessi di olio oppure la frittura. L'ultimo consiglio, non scontato e non dedicato alla scelta alimentare, ma piuttosto a una scelta di lifestyle, diciamo così, è l'utilizzo del diario alimentare. Quindi nel caso noi non siamo abituate già a mangiare così, potremmo controllare un pochino di più in gravidanza la nostra alimentazione, per il nostro bene e per quello del bambino che stiamo portando in pancia, attraverso l'utilizzo di un diario alimentare. Quindi il diario potrebbe diventare uno strumento di aiuto molto utile per valutare se stiamo seguendo un'alimentazione bilanciata e sana oppure no. Semplicemente scriviamo che cosa mangiamo durante il giorno. A fine giornata verifichiamo se quello che abbiamo mangiato segue la linea guida che ci ha appena elencato Giorgia. Adesso vi racconto invece che cosa ci dice la personal trainer Paola Sistro. Paola Sistro lavora sempre a Torino e fa dei corsi di ginnastica preparto e postparto all'interno del nostro sito. Allora Paola ci racconta che il diabete gestazionale durante la gravidanza va gestito da un team di professionisti che affiancano la futura mamma se dal punto di vista fisico che psicologico. Quindi qua ripete un po' il concetto che ha detto anche Giorgia, ci va un team multidisciplinare in caso di donna affetta da diabete gestazionale. Inoltre sottolinea che è noto che fare attività fisica regolare e costante migliori l'indice glicemico e aiuti a tenere sotto controllo il peso corporeo. Quando parliamo di attività fisica non è detto che dobbiamo fare per forza una ginnastica uno sforzo fisico elevato, è sufficiente anche fare delle lunghe camminate o passeggiate all'aria aperta. L'American Diabetes Association e l'ACOG consigliano alle donne che non abbiano controindicazioni mediche e o estetriche ed iniziare a continuare un programma di esercizio fisico moderato come parte del trattamento del diabete gestazionale. Allenamenti di tipo aerobico e o di forza adatti all'epoca gestazionale ad un'intensità media che verrà misurata con una scala di valutazione di RPA cioè Rate of Perceived Exertion della durata di 35-40 minuti per 4-5 giorni a settimana. Quindi semplicemente possiamo camminare riuscendo a parlare, questo è la Rate of Perceived Exertion che ci indica Paola, per 35-40 minuti 4-5 giorni a settimana. Secondo me camminare fuori fa bene tutti i giorni non solo all'aspetto diciamo fisico ma anche psichico perché ci libera un po' di alcuni pensieri e ci rilassa almeno questo è l'effetto che ha su di me. Gli orari degli allenamenti dovranno essere concordati con il dietologo per capire quale sia il momento migliore della giornata per fare sport tenendo in considerazione gli orari dei pasti. Questo è un consiglio riferito per le donne che hanno diabete gestazionale, chi non ce l'ha ovviamente può semplicemente farlo quando si sente più propensa a farlo. Adesso vi racconto invece cosa ci dice Martina Luparia che è la nostra pediatra quindi lei ci darà dei consigli relativi al bambino e ci dice quali potrebbero anche essere le complicanze di diabete gestazionale nei confronti di un bambino. Mantenere sotto controllo i valori glicemici è molto importante anche dal punto di vista del bambino in quanto il diabete gestazionale scompensato può portare a molteplici rischi sia per il feto che per il neonato. Un esempio è la possibilità di ipoglicemie anche marcate nelle prime 12-24 ore di vita con la necessità di monitorare i livelli di glucosio nel sangue ed eventualmente intervenire con alimentazione precoce o addirittura infusione endovenosa di glucosio. Quindi primo rischio possibilità di ipoglicemie nelle prime 12-24 ore di vita. Secondo i neonati che nascono da madre con gdm scompensato sono inoltre solitamente neonati molto grossi e quindi incontrano più difficoltà a passare attraverso il canale del parto e possono presentare difficoltà respiratorie nei primi giorni di vita. Quindi qui c'è una doppia complicanza, difficoltà a passare attraverso il canale del parto e difficoltà respiratorie nei primi giorni di vita. A proposito alla difficoltà attraverso un parto per vie basse, via vaginale, non so in italiano veramente come viene definito, si lega il commento di Martina Pellegrino che è la ginecologa. Infatti lei ci dice che aggiungerebbe tra i rischi e le complicazioni della diabete gestazionale, un espletamento del parto precedente alle 39 settimane, quindi un pochino prima del termine e un aumento del tasso di cesareo perché ovviamente se il bimbo ha difficoltà a passare attraverso il canale del parto viene applicato un cesareo. Infine vi racconto l'esperienza mam to mam, vi dico prima la mia perché è molto breve, dato che non sono stata affetta da diabete gestazionale né per la prima né per la seconda gravidanza. Io in realtà semplicemente ho fatto il test, quindi nonostante non avessi avuto un aumento di peso molto elevato ho preferito comunque togliermi il dubbio e fare il test, ma è una scelta personale, nessuno è obbligato. Il test è piuttosto fastidioso, ma nulla di che in realtà comunque bisogna bere un liquido molto dolce, puoi aspettare molto tempo prima che ti facciano diversi prelievi del sangue per vedere come appunto reagiscono i tuoi valori di glucosa nel sangue. Detto ciò io in generale ho un'alimentazione sana e pratico attività fisica tutti i giorni moderata, però insomma questa è appunto la mia esperienza. Mentre abbiamo la testimonianza di una mamma che è stata affetta da diabete gestazionale sia nella prima che nella seconda gravidanza, ha avuto due gravidanze con diabete e ci dice che durante la prima gravidanza appunto le è stato diagnosticato questo diabete e lei non aveva assolutamente idea di che cosa volesse dire e quindi è stata presa in carico dal centro diabetico del suo ospedale e ha iniziato quindi tutte le routine, le visite settimanali. È una dieta per tenere bassa la glicemia e questa rilevazione di glicemia veniva fatta tre volte al giorno, quindi tantissimo. Le è stata data l'insulina e poi ci sono stati degli monitoraggi settimanali a partire dalla 32esima settimana. Aveva una pancia molto grande, un bimbo molto grande e in più era anche toxonegativa, quindi ovviamente non si è mai potuta permettere il concetto del mangi per due che in realtà è un concetto non propriamente indicato in gravidanza e su questo c'è un articolo sempre da parte di Giorgia, però ovviamente è una donna in gravidanza affetta da diabete e toxonegativa, ha moltissime restrizioni comunque nella scelta alimentare. È stata quindi, dice che è stato molto difficile, ma finalmente tutto l'è passato quando ha partorito e l'è stata portata come ricompensa a una saccher che ricorda con grande entusiasmo, l'è stata portata a questa saccher in ospedale. Poi racconta anche che del diabete gestazionale appunto non se ne parla tantissimo, in effetti è una cosa che si scopre soltanto in gravidanza e spesso si scopre soltanto quando ti propongono di fare il test, quindi non se ne parla molto, in realtà è una cosa importante da raccontare perché comunque i rischi per donna, feto e bambino ci sono, esistono, quindi è bene prevenirli. Lei per esempio ci racconta che durante la prima gravidanza ha perso 15 kg, quindi normalmente si acquisiscono i kg in gravidanza ovviamente. Lei li ha persi perché ha avuto un'alimentazione molto controllata e ha perso quindi 15 kg durante la prima e 10 per la seconda. Faceva insulina mattino e sera e dopo il primo parto ha scoperto di avere un'epatopatia non gravissima, quindi durante la seconda gravidanza le dissero che l'insulina non faceva bene al fegato e quindi insomma è chiaro che ha subito una gravidanza medicalizzata, quindi a valle di ogni medicina comunque ci sono dei rischi e lei ha avuto a valle delle gravidanze e le hanno scoperto questa epatopatia. Insomma, quindi ci consiglia di fare la curva glicemica nonostante non abbiamo magari pensato mai di farlo, in realtà appunto ripeto questa è una scelta molto personale e sicuramente il team che segue ognuna di voi vi saprà indicare la strada giusta. Ci sono altri articoli sul sito relativi all'alimentazione della donna, ve li elenco molto velocemente. Principi base per una sana alimentazione di una donna, alimentazione ed infertilità, in quanto l'alimentazione e l'infertilità sono in situazioni di normalità, sono dei concetti molto correlati. Poi c'è un articolo dedicato ai cibi pericolosi in gravidanza eccetera eccetera, quindi si vanno a vedere tutte le malattie che si possono prendere dai cibi durante la gravidanza, quando fare attenzione, come fare attenzione eccetera eccetera. Vi consiglio se voi inserite oppure andate nella pagina della dietista, andate a vedere gli articoli che ha scritto al fondo della pagina, troverete tutti quelli che vi ho elencato adesso. Ragazzi se vi è piaciuto il contenuto vi invito a iscrivervi al canale e inoltre vi informo che abbiamo anche una newsletter dove se vi iscrivete viene utilizzata per inviarvi materiale inedito e gratuito circa una volta al mese. Vi ricordo che tutti gli articoli sono scritti dalle nostre professioniste, quindi non da mamme, ma da donne che hanno studiato questo, sono revisionati da tutto il team, sono quindi super validati. L'informazione che vi diamo è del tutto gratuita perché il nostro valore base è creare sicurezza nella donna e nella mamma. Per questo video è tutto, ci sentiamo alla prossima. Buona giornata!